Siamo sempre in diretta dal Salone EOS edizione 2024, la fiera di Verona dedicata alle armi sportive e da caccia. Siamo allo stand della Bignami in compagnia di Philipp Gruber con uno dei più recenti arrivi, si tratta della carabina Taurus T4. Ovviamente non si può nascondere il fatto che si tratta di una reinterpretazione del clone immortale AR-15. In questo caso parliamo di un'arma di stile classico con upper e lower di tipo forgiato, canna lunga 14,5 oppure 16,5 pollici. I comandi sono di tipo standard, quindi sicura manuale sul lato sinistro, hold open sempre sul lato sinistro, sul lato destro c'è il pulsante di sgancio del caricatore e il forward access. È presente il deflettore dei bossoli e la finestra di espulsione prevede il coperchio a scatto parapolvere. L'astina è in lega leggera, prevede una slitta picatinni nella parte superiore che si raccorda con quella presente sull'upper di tipo flat top, mentre sui lati e inferiormente presenta interfacce M-lock. Il calcio è di tipo collassabile e regolabile su più posizioni, il ponticello in polimero è di tipo maggiorato. Chiediamo a Filippo quanto costa al pubblico. Allora verrà ad avere un prezzo di circa 1.500 euro. Molto bene e già disponibile in Italia. Già disponibile a magazzino. Molto bene.